Ciao a tutti da Sport 2.0 Oggi andremo a scoprire il mondo della lotta del Custorino Ciao! Abbiamo circa 28 atleti con un rapporto, diciamo, di una femmina ogni quattro. Io vorrei andare alle Olimpiadi con essere più grande. Delle femmine posso dire che generalmente sono più obbedienti e più entusiaste dei loro colleghi maschi. Tutti dicono che i maschi lottano, però in realtà secondo me è anche uno sport per le femmine perché anche le femmine possono lottare perché se ci mettono grinta e se hanno voglia secondo me possono anche diventare più forti dei maschi. Io sono qua prima di tutto perché faccio la lotta, secondo perché studio e terzo perché grazie al CUS ho vinto una borsa di studio che mi permette di stare qua a Torino e di vivere questo sogno. Ho scelto la lotta perché è uno sport che mi sfoga perché fanno delle belle capriole perché una notte la lotta insegna da piccolo a fraginarsi invece gli altri sport si cominciano da un'età un po' più maggiore. Diciamo gli incontri di alto livello, nota che praticamente gli atleti non si ammazzano, non succede niente di brutale, anzi sembra che danzino veramente, sembra che siano leggiadri, che siano sciolti e veloci e molto dinamici. Grazie a tutti! Grazie a tutti!